Musica 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 Quai? Pucqua Parun Musica Perché? Ho scelto il vice linguistico perché conoscere del lingue è fondamentale per migliori opportunità di lavoro e di vita anche fuori dall'Italia Perché amo dialogare e conoscere la quotidianità delle persone e con questi studi posso rapportarmi con persone diverse da me Perché mi consente di seguire il percorso ESAFAC che alla fine dei 5 anni mi permetterà di conseguire due ricordi quello italiano e quello francese Perché sarebbe bello se un giorno riuscissimo tutti a capire che siamo tutti uguali anche se abbiamo lingue e religioni diverse Perché amo viaggiare e conoscere più lingue mi permetterà di conoscere e comprendere più culture e versioni più edizioni Un centro linguistico perché si fanno molte attività film, teatro, visite guidate e stage all'estero Ciao! 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 E sono molto contenta della mia scelta perché sono riuscito a fare moltissime nuove amicizie perché è una scuola molto accogliente perché posso far sentire anche la mia voce perché gli insegnanti sono molto disponibili perché mi sento parte di una nuova grande famiglia Quai? Fuqua Harun Perché? Io sono in quarta, ho scelto il liceo linguistico per l'ottima organizzazione dell'efficienza educativa che mi ha fatto conoscere la cultura europea mediante corsi internazionali e scambi culturali perché mi fa sentire cittadina del mondo e inoltre questa scuola mi ha proposto di conoscere lingue e costumi di paesi differenti facendomi acquisire una mentalità molto più bella e cosmopolita Ho scelto il liceo linguistico perché mi dà l'opportunità di seguire dei corsi e di ottenere delle certificazioni che mi saranno molto utili nel mondo del lavoro In questi anni ho preso le lingue anche divertendomi ascoltando canzoni, andando al teatro e vedendo film di lingua Come si chiama il mondo del 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti